Ok, ciao ragazzi. Oddio, mi ha sentito, mi sa. Spero di no. Comunque, vi stavo dicendo, come vedete dal titolo, ho portato fuori la soma. Vi ho mostrato la mia vasca all'aperto, questa qui, ok? E come vi ho detto, avrei portato fuori la soma. L'ho fatto nell'ordine in cui ho detto nel video scorso. Nel senso che ho portato fuori prima un maschio, perché di femmine ne ho soltanto tre. E visto che io, in questo momento, voglio fare tre copie o tre tri, è importante dare la priorità alle femmine. Quindi ho portato fuori un maschio, dopo due giorni che stava bene, non è morto, non stava bene. Anzi, guardate che bei colori che ha all'esterno. Adoro. Proprio bello, guardate che bello, cavolo. In questo momento è come se voi stesse, guardando in mezzo al cibo, dopo ho portato fuori un altro maschio. Dov'è? Dovresti vederlo. Eccolo lì. Che è una variante, se notate, più chiara. Io ho un maschio bianco e un maschio nero. Sono fratelli, ma uno è bianco e l'altro è nero. O meglio, uno è chiaro e uno è scuro. E poi, alla fine, ho portato fuori la femmina. La femmina è più giovane. Ci sono comunque fratelli tutti quanti, purtroppo. Però è un po' più piccola rispetto ai maschi. In teoria è una nidiata prima, una deposizione prima, cioè dopo. Allora, perché ho un trio sballato? Perché ho due maschi e una femmina? Perché, appunto, come dicevo, il mio fattore limitante in questo momento sono le femmine dell'Elassoma. La specie che è? È una specie simile, anche se non siamo sicuri, sia proprio quella di Elassoma evergladei. Dovrebbero schiamarsi. Sbaglio sempre i nomi. E in questo momento io sono l'unico in Italia, in teoria, ad avere coppie riproduttive di questa specie. Proprio per questo devo fare in modo che tutte e tre le coppie che ho riescano a riprodursi. Per riuscire ad avere più piccoli possibili. E poi devo anche rintracciare effettivamente la specie. Il problema è che non siamo sicurissimi sia questa, perché la nominazione di questa specie era una cosa del tipo Elassoma affine evergladei. E allora abbiamo detto, boh, dobbiamo ricostruirlo. Io e la ragazza che le aveva e altre persone. Perché, appunto, a un certo punto sarà importante anche trovare dei migranti, dei pesci che vengono dall'estero, per aumentare la verità genetica. In questo momento, con sole tre coppie, è molto rischioso che la verità genetica sia scarsissima. Già in questo momento, se ci pensate, ci sono tipo due... cioè, sono fratelli questi, ok? Ora, fortunatamente questa specie non è molto aggressiva. Cioè, i maschi non hanno quel tipico comportamento aggressivo, sia tra gli altri maschi, ma soprattutto con le femmine. Cioè, non ci provano fino a sfinirle, come fanno tanti altri pesci. E questa cosa, per me, è ottima, perché in questo momento posso tranquillamente tenere due maschi e una femmina, che è una cosa che di solito con un'altra specie sarebbe impossibile. Finiresti con la femmina che muore di fame, ok? Con tipo i Dario, con i Piacilidi. Due maschi e una femmina, finiresti con la femmina morta di fame, perché basterebbe tutto il tempo a scappare dai maschi che provano a raccopiarsi e lei non riesce neppure a praticamente mangiare. Ora, come vedete, in questa vasca sta riuscendo quello che volevo. Cioè, in questo momento sono 4-5 giorni che ci sono i maschi e 3 giorni che ci sono 3 pesciolini. Eppure la microfauna, le Daphne, le Lapi di Zanzare, le Lapi di Chironomus, tantissime altre robe, guardate, non stanno calando. E quindi forse ci riesco, riesco effettivamente nell'obiettivo di tenere una vasca sempre con il cibo vivo, sempre, e con i pesci che si riproducono. Vi dicevo, posso fare questa cosa di mettere un maschio, scusate, due maschi e una femmina proprio per questo comportamento ed è una cosa che in questo caso ha senso che io faccia per un motivo di variabilità genetica. Nel senso che, pensateci un attimo, un maschio probabilmente ha alcune varianti alleliche diverse rispetto al fratello. Statisticamente, nel migliore dei casi possibili, anche se probabilmente non è così, hanno il 50% di differenza. Cioè, per il 50% sono uguali, per il 50% sono diversi, probabilmente anche meno perché sono anche più strettamente imparentati, purtroppo. Cioè, nel senso, anche i loro parenti probabilmente erano parenti. Cioè, anche i loro genitori erano parenti. Però è una cosa che succede molto, purtroppo, negli allevamenti di pesci. Ora, capite, se ci sono delle varianti diverse, e già è molto probabile, visto che già soltanto la concentrazione di pigmenti è diversa nelle loro pelli, ha senso che io riesca, provi, a far riprodurre la femmina con entrambi i maschi. Quindi che lei riesca ad avere dei figli con uno e figli con l'altro, in modo da avere nipoti, o meglio, figli ulteriori, scusate, con molte più variabilità, che porti i varianti geni, che di un maschio è l'uno dell'altro. È una cosa che faccio anche con le altre femmine. E così, se ci pensate, non è come se io avessi soltanto sei individui riproduttori, ma no, vè, ok? Non ho tre coppie, ma ho tre tre. Ho una n population size, una grandezza della popolazione effettiva, che è un po' più grande, comunque nove, comunque piccole, proprio per questo dovrò, nelle prossime generazioni, trovare dei migranti che arrivino e aumentino la probabilità genetica. È una roba fondamentale, altrimenti questa specie è persa, come vi dicevo, in questo momento sono l'unico in Italia ad avere delle coppie riproduttive e non voglio permettermelo sinceramente. Per il resto basta, questa va scassando molto bene, sono molto fiero. Ho aggiunto un paio di piantine, giusto per, ho messo della limnofila lì in fondo, perché voglio che cresca abbastanza e riempia bene quel lato là. Ho messo ulteriore muschio, spero che il muschio cresca ancora di più, perché lì deve venire proprio un bel cespuglione. Ho aggiunto anche un po' di valisneria, perché voglio che la valisneria cresca, perché sì, sia per i pesci, ma sì, soprattutto per i valori dell'acqua, ma soprattutto per il fatto che voglio che non si riempia troppo di alghe, ma quello quasi sia inevitabile, ma soprattutto che si creano dei bel cespugli in cui i piccoli possono tranquillamente ripararsi, trovare eventualmente del cibo vivo molto piccolo all'interno del muschio. Bene, vi aggiorno passo per passo, vediamo quando, se succederà che le dapne vengono propriamente mangiate e si riempie di alghe, e se non succede bomba, vi aggiorno se ci sono riproduzioni, lo spero tantissimo in questo momento. Detto questo, ciao ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video.